So che con questo video mi attirerò moltissime antipatie. Vi avevo detto più o meno la stessa cosa quando abbiamo parlato del deserto dei Tartari, di Buzzati. E infatti un po' è successo, diciamo la verità, è successo. Sotto al video del deserto dei Tartari qualcuno mi ha detto, no, ma come, non ti è piaciuto, a me Buzzati piace. A parte io Buzzati devo ancora, a Metamorfese a me piacciono da morire. Devo ancora leggere Barnabó, devo leggere i racconti, anche la boutique del mistero. Quindi non è che lo conosco bene, a me, come scrive, no? Per esempio Buzzati, gli ho detto, mi fa schifo. Cioè è una cosa che mi casca la palpebra. Però, amici miei, però, 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 questo signore qui, che si chiama Franz di nome e Kafka di cognome, con questo libro, che si chiama Il di nome Castello di cognome, veramente li batte tutte, ok? Allora, Kafka è uno che, nel Metamorfese a me è piaciuto, però è uno che si è messo a scrivere questa robetta che è nelle edizioni Feltinelli di 372 pagine, e lo so perché le ho contate una ad una. Cioè io ogni volta, ogni pagina leggevo, andava nel contatore la pagina. E si è messo lì e ha deciso di fare un'operazione. Come faccio io a scrivere una roba di quasi 400 pagine che sia il quanto più possibile vicina alla tortura, no? E lui, per me, proprio, si è messo a pensare le cose in una mente diabolica, il Sir Kafka. Ha detto, come faccio a scartavetrare i maroni di uno che si è preso la briga, anziché guardare il telefono, anziché guardare una serie tv, ha deciso di leggere un libro e si imbatte in questa roba qua. Io, guarda, rimango allibito, perché trovo sul web molti di questi uomini di cultura, influencer, filosofi, che dicono non solo che Kafka è bello questo qua, questo qua il castello è bello, ma che il castello è uno dei loro libri preferiti. Allora, quando vi do un consiglio, se non l'avete letto, Kafka, eh, lo do un consiglio. Quando arriva da voi uno, un tizio, e vi dice che il castello, il di nome, il castello di cognome, è uno dei suoi libri preferiti, ve lo dico io perché lo fa, volete sapere perché lo fa? Ve lo dico io. Per darci un tono e dire, te sei una merda che apri questa roba qua dopo 30 pagine ti vuole esuscidarti, io che sono ganso, io che sono un uomo di cultura, che leggo tanti libri, non solo acconterò a tuo che sei una capra ignorante, l'ho letto, ma è uno dei miei preferiti. Ragazzi, vi rendete conto che vuol dire dire uno dei miei preferiti? Avete mai letto Bianciardi, Calvino? Io domando a queste, avete mai letto Calvino? Come fate a dire uno dei miei preferiti questa roba qua? Allora, partiamo dall'inizio. Torniamo indietro, lo sto un po' demolendo il Sir Franz, torniamo indietro per capire quali sono i motivi per cui, ripeto, uno non guarda il telefono, non guarda la tv, eccetera, e decide di leggere il libro. Uno, primo motivo, motivo del 90% delle persone. Uno, la trama. Se uno decide di leggere un libro, lo fa perché è interessato alla trama, l'appassiona la trama, ok? Ed è il meccanismo con cui ci fregano oggi nelle serie tv, per esempio, ti mettono su una trama ganza e te ti ci appassioni. Due, secondo punto, personaggi. Lo fai perché? Perché ti prende da morire fin dalle prime pagine un personaggio. Esempio, lo volete un esempio? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ha pita nel Segno dei Quattro, che è il primo libro in cui compare, in cui incontra Watson. Sherlock Holmes è un personaggio stratosferico. e quindi, anche se non c'è la trama, non ci fosse... C'è la trama, ma anche se non ci fosse la trama nei libidi con Andoi, che sono libidi alto che Kafka, scusatemi, scusatemi, alto che Kafka. Voglio dire, il castello è Kafka, poi altre cose per carità. Però Sherlock Holmes è un personaggio che ti pende talmente tanto che tu lo leggi. Un altro personaggio è Dracula, il conte Dracula, porca miseria, che personaggio che... Allora, lo leggi per il personaggio. Questo è il secondo motivo. Tre, lo leggi perché tu ti aspetti da un libro, e questo è un motivo nobile, un motivo bellissimo, che attraverso l'empatia che sviluppi con la storia e con i personaggi, arrivi a ricavare una diversa immagine del mondo intorno a te. E questa, signore e signori, lo fa la grande letteratura. La grande letteratura fa questo. L'empatia, il fatto che ti leghi per tante pagine, il tuo vissuto per tante pagine a un testo, ti consente poi di assimilare la visione dell'autore e di tornare con qualcosa di diverso dalla lettura di quel testo. C'è in Kafka tutto questo? Queste tre cose, nel castello, il, di nome, castello, di cognome. Ci sono? No! Ragazzi, un quarto motivo ve lo dico, me l'ho dimenticato, lo stile dell'autore, lo stile dell'autore vi piace? Qua non c'è nulla. Uno, non c'è la trama. La trama è che il signor K arriva e viene assunto come agrimenzore dal castello, è bella la descrizione del castello, quella che trovate su internet, sì, finita lì, fine. Arriva come agrimenzore dal castello, poi scopre che la letta firmata dal signor Klam era frutto di un errore, va a parlare col governatore, che gli assenna un altro ruolo, va a fare il bidello, e insomma, lui passa 372 pagine, contato in una, a parlare con la gente. Perché c'è stato questo errore? E il suo obiettivo è parlare col Klam, che poi ci ha contato da funzionare tutto l'apparato burocratico, e qui c'è la morale del libro. La morale è che qual è? L'uomo è immerso in questa società ingarbugliata, grovigliata, in cui non sa trovare una sua posizione, quindi questa è una declinazione sia sociale, sociologica, che esistenziale. L'ebreo errante, l'ebreo che erra, che vaga, la meta è lì, può essere appunto la patria, l'israele, quello che volete, quindi questa metafora, questa figura dell'ebreo errante, che gira intorno al castello e mai si avvicina neanche al castello. Allora, questo è un romanzo, ve lo dico io, di gente che a molto tempo, quando uno ci può scrivere sopra, ci hanno scritto tantissimo sopra, adorno, tutti i filosofi, questo romanzo di gente, ripeto, che vuole farsi più brava di voi perché dice che gli è piaciuto, per me è un'eresia nei confronti della letteratura, dire che questa roba qua può piacere, è un'eresia, chiudiamo i libri, è il frutto di gente che dice questo e lo usa, questo espediente, per ricavarvi dei pipponi stratosferici per farci entrare tutto nel calderone, perché poi questo romanzo parla talmente tanto del nulla, di questo che gira da una parte all'altra e parla l'uno dall'altro, che ovviamente poi ci potete infilare dentro tutto, ok? Quindi la trama non c'è. Personaggi, i personaggi, io non mi ci sono affermi, non me ne fregava, non so come dirlo, non me ne fregava nulla di quello che accadeva ai personaggi, a partire da Barnabas, la parte in cui Olga, la sorella di Barnabas, parla dell'onta ricevuta da Melia, a parte se sono un po' dinamiche, concetti dell'Ottocento che già oggi a noi risulta un po' strano leggere, tutto questo formalismo, anche le virtù, eccetera, però l'onta da Melia, 60 pagine, 3-4 capitoli di storia della famiglia di Barnabas e di lui, che quando è incontrato il signor K per conferirli quella lettera, con signori quella lettera, era in realtà il suo primo incarico, mentre K aveva pensato che era un funzionario, uno lo faceva tramite con il castello, che lavorava lì da molto tempo, quindi l'ha ammantato di questa figura di affidabilità, ma c'è bisogno di 60 pagine per dimmi questa roba qua, 60 pagine, io le ho contate una a una, poi Fettinelli, questi sono libri scritti fitti, ho contato una a una le pagine, 369, 370, 360, c'è bisogno di dimmi questa roba qua per 60 pagine, ok? Quindi personaggi, questo è punto. 3- Collegamento emotivo per acquisire visione migliorate del mondo non c'è, perché non ti si affezioni emotivamente a nessuno, cioè non vedi l'ora che finisca l'agonia, ok? L'agonia. 4- Quarto, lo stile, Kafka qui non sa scrivere, signori, allora, qua intendiamoci, bisogna avere il coraggio oggi di dire che quando un libro fa schifo, fa schifo, anche se è scritto da Gesù Cristo, si chiama Kafka, per l'amor del cielo fossi la metà di quello che è stato Kafka, come è successo? Ma questo è un successo per me inspiegabile del castello, inspiegabile, c'è scritto male, scritto male, i personaggi non ti trasmettono nulla, sono anche piuttosto antimi, i servi, i servi di K che lo seguono dappertutto, e che dovevano essere una sorta di reporello, quindi una sorta di spalla, se vogliamo anche comica, un contraltare umoristico, diciamo alle vicende di K, tormentate per l'amor del cielo, ma i servi non sono riusciti nell'intento, non ti scatenano questa vena umoristica, non so come dirvelo, e il fatto che Kafka si sia impegnato veramente nel proporre dialoghi assurdi, insensati, se voi leggete su internet, lo dicono anche da tutte le parti, che è un romanzo che offre particolari dialoghi assurdi, insensati, convoluti, ma questo, ma perché? Cioè io mi domando Kafka, ma perché? Cioè l'idea del castello, come di questa cosa inavvicinabile, no? L'uomo che ci gira intorno, può essere anche riproposto in termini filosofici, la verità, l'essere, ma perché? Ma perché è una metafora talmente, diciamo, orizzontale, talmente generale, vaga, che può essere applicata a qualsiasi cosa, capite? Cioè quando avete una metafora così, la potete applicare a qualsiasi cosa, però non è un grande libro, ragazzi, questo non è un grande... Buzzati, allora Buzzati perché io vi ho parlato di Buzzati, perché Buzzati nel deserto dei Tartari ha voluto fare il Kafka, no? Ha detto ora mi metto a fare Kafka, e c'è riuscito, solo che c'è riuscito meglio, Buzzati c'è riuscito meglio, uno perché, primo secondo me, parere personale, la letteratura italiana è la più grande di tutte, sarò italiano, scusatemi, ma quando uno scrittore si mette a fare letteratura in Italia, li batte tutti con gli altri, quindi Buzzati ha parità di intenti con Kafka, perché se volete anche i Tartari sono questa figura, no? E' come il castello, i Tartari sono il castello, no? Quando arrivano i Tartari, Giovanni Togo, ma recuperatevi il video, se non ve lo siete persi, è infermo, è malato, no? Però Buzzati, nonostante anche lui abbia praticamente, ci sia messo impegno a privare di pathos i personaggi, la trama praticamente scarna, però è molto più leggibile Buzzati, perché alla fine c'è la caratteristica del protagonista Giovanni Drogo che ha una sua psicologia a cui gli succedono anche alcune cosucce e che però ti interessano di più, cioè proprio il modo di raccontare, il modo di scrivere che è molto meglio di questo Kafka qua, questo Kafka qua è scialbo, insulso come modo di scrivere, cioè questi dialoghi lunghi, sono monologhi lunghissimi, conversazioni tra due persone che parlano di cose però di cui non te ne frega nulla, la letteratura dovrebbe riportare lo straordinario, se tu mi parli delle cose ordinarie, quello aveva il babbo pompiere, poi la sorella è stata molestata, non funziona, ma che me ne frega, cosa me ne frega, cioè il romanzo alla fine è questo, non succede nulla, lui fa il bidello in una scuola elementare dopo aver provato a andare lì come agrimenzore, sempre con questi due serbi dietro, si fidanza con questa Frida che poi si scopre che una che era legata a funzionare o clamme che usava prima clamme poi lui, ma era abbastanza prese quindi all'inizio, ma vabbè, lo usava per diciamo scendere socialmente, ok, quindi era una che cambiava partito ben volentieri, dopo aver fatto questo lui va con questo albergo dei signori in cui va di continuo perché lì si dormono i funzionari eccetera, conosce prima un funzionario poi sbaglia a camera, entra in quella ad un atto, quell'altro gli racconta delle cose del castello, lui si addormenta pigliandogli il piede, cioè, ma io ragazzi non lo so, questo romanzo per me è brutto, per me è un romanzo veramente brutto, e se già secondo me, ma a mio personale parere, anche Dostoevsky non sa scrivere molti libri di Dostoevsky, noi lo leggiamo perché si chiama Dostoevsky, ok, Kafka qui ha maggior ragione, se questo libro lo scrivesse oggi uno che non si chiama Franz Kafka, questo libro sarebbe finito al macero, non sarebbe mai stato pubblicato, capite? Cioè, anche qua, abbiamo il coraggio di identificare la letteratura, quella buona, che non dico ci fa divertire, però che ci fa anche, ci intrattiene, la letteratura ragazzi deve intrattenere, io lo so che questo discorso me lo criticate sempre, io voglio che un libro mi intrattenga, mi diverta, sto leggendo Sante Bevitore di Laurence Osborne, lo trovo profondissimo e divertente, però un divertimento non squaiato, un divertimento fine, raffinato, come la vera letteratura, qui io non mi sono divertito, questa è stata la mia tortura dell'anno, questo libro l'ho iniziato, inizio anno, l'ho lasciato, poi l'ho ripreso dopo qualche anno, qualche tempo, sono riuscito a finirlo, però, mi assicuro, è stata un'agonia, quindi niente, voglio scatenare i debati, questo libro a me ha fatto schifo, che dice che Il Castello è uno dei suoi libri preferiti, per me va rinchiuso, va proprio preso, gli va detto, guarda, avete presente Kubrick, Arancia Meccanica, abbiamo aperte le palpebre e gli va messo davanti le Cosmicomiche, poi il Barone Rampante, poi Vitagra, che ne so, ditemene un altro di capolavoro, La Pelle, ne ho parlato di questi sul canale, e gli va detto, guarda, leggiti questo, e poi mi ridici, se ancora è il castello, è uno dei tuoi preferiti, sono stravolto, come quando ho finito di leggere, ero mezzo, fatemi sapere, nei commenti, se l'avete letto, se arrivate in fondo, scrivete Barnabas, Barnabas, ciao.